E cosa penso io dei critici d'arte? Siccome ogni tanto scrivacchio anch'io, visito mostre e prendo appunti, scrivo qualche articoletto sulle mostre che vado a vedere, naturalmente ho anche in questo campo la mia idea, ho conosciuto tanti critici d'arte che rispetto moltissimo, che stimo moltissimo, ci sono fra questi anche personaggi di un certo livello, di un certo spessore, purtroppo anche in questo ambito, come nell'ambiente pittorico, come tra i pittori, ci sono molti improvvisatori, come anche tra i pittori, ci sono in Brattadeli, ci sono pittori della Domenica e lo stesso tra i critici, ci sono critici di un certo livello e quelli sono conosciuti, li conosco quasi tutti, anzi quasi tutti hanno scritto di me, insomma da Maurizio Fagiolo a come dire a Strinati, hanno scritto in molti e poi ci sono giovani anche bravi che promettono davvero e molti invece che scribacchiano proprio, scrivono, critica d'arte ma non sanno da dove si comincia, da dove comincia veramente la critica, sanno nemmeno che la critica d'arte nasce con Baudelaire, questo grande poeta francese dell'Ottocento, che è stato il primo a porsi il problema della critica d'arte, questo grande poeta dei fiori del male, il famoso libro di poesia, lui ha cominciato a scrivere andando alle mostre d'arte, scriveva di pittori che amava di più, lui erano della Croix per esempio, ma anche altri, insomma comincia la vera e propria critica d'arte con i suoi interventi a proposito delle mostre, dei saloni, delle esposizioni di allora a Parigi. Molti giovani non hanno idea di quello che è la critica d'arte, di quello che è il ruolo del critico d'arte, perché il critico d'arte in qualche modo non sposta soltanto il gusto, ma si dovrebbe porre il problema di mettere in qualche modo l'arte, renderla leggibile invece che usare un frasario difficile, illegibile, complicato, è complicato il loro linguaggio, ma complicano anche con questo modo di parlare difficile o comunque anvanvera, complicano anche il rapporto che ci può essere tra il pubblico inesperto e la pittura, l'arte in generale.